Giuliano Sanna, Assessore all'Ambiente del Comune di Nuoro, siamo a un mese dall'entrata in vigore del nuovo sistema di raccolta differenziata con i nuovi criteri di conferimento. Quali sono i risultati che vi sono stati comunicati da Nuoro Ambiente in merito? I risultati sono oltre modo lusinghieri, diciamo, inaspettati anche per certi aspetti. E' chiaro che eravamo consapevoli che il sistema avrebbe portato alcune criticità all'inizio, alcuni disagi e quant'altro. Però ci rincuora aver saputo che la prima quindicina di marzo ha fatto registrare una raccolta differenziata che si attesta al 74%. Un risultato certamente storico per la nostra città, un risultato che io che sono una persona molto cauta, leggo, con pacato ottimismo. Certamente oltre le aspettative della nostra amministrazione. Merito sicuramente dell'impegno dei nostri concittadini, ma da questo punto di vista non avevamo dubbi. Se non avessimo avuto fiducia nei nuoresi non avremmo neanche ipotizzato di mettere in moto questo nuovo sistema. Quali prossimi passi? I prossimi passi certamente è l'affinamento del servizio rispetto alle varie criticità che i vari utenti ci stanno portando all'attenzione, come è normale che sia. E poi un'implementazione delle campagne informative. Quindi abbiamo in programma, a breve distribuiremo un abecedario dei rifiuti. Abbiamo intenzione anche di attivare un'applicazione per gli smartphone, sempre in tema di rifiuti, in modo che la gente sia stimolata e possa avere in tempo reale tutte le informazioni necessarie per effettuare al meglio la differenziazione.